Il popolo di Facebook, Youtube, Twitter, Messenger, Skype, Filipe Branchezza, siamo qui a Lido Tritone Allora, andiamo a vedere Allora, ai proprietari Non ti mette, non ti cercare addosso Buonasera al popolo di Facebook, Youtube, Twitter, Messenger, Skype, Filipe Branchezza Siamo qui a Lido Tritone, le invitiamo a tutto il popolo di Facebook, Youtube, Twitter, Messenger e Skype a venire a Lido Tritone Presentiamo i proprietari Umarò, appoggio, appoggio Appoggio, appoggio Sto parlando, qua a Lido Tritone, questo è il proprietario Sto parlando, stiamo senza panza, la tagliamo La panza andiamo Che bellissimo, gli altri Perché non funziona la doccia a casa? No, non dite moda La doccia a casa, la doccia a casa, non funziona Funziona, l'abbiamo giussata Funziona, la giussata, vero se a metter Ti vogliamo invitare a Lido Tritone Dicci qualcosa, va Tutto quello che volete, siamo a disposizione di tutte le agenzie Dove vi trovate esattamente? Esattamente, siamo a Marina Tritone Aschidella, Casteggiotturno, Casetta Casetta 39, 200 Come? 39, 200 Mo dobbiamo mettere pure un po' di animazione Un po' di karaoke Qualche po' L'animazione già parte la settimana prossima Ah, siamo una bomba e noi già siamo qui Abbiamo due amici di Napoli Che sono molto bravi Ok, poi ti faccio vedere Allora tu metti l'animazione dentro io Bellissimo Sì, è Giuliano Bellissimo Bellissimo Cacciate le fotografie Ok, ok, grandissime Allora per la settimana prossima Popolo Ci sono anche Caraoglie Va bene Venite intanto a Lido Tritone A Giappate Faccio pure un gesto così Anche alle bariste Andiamo anche alle barmane Guardate che belle ragazze Due barmane Qui a Lido Tritone Vai, salutate al popolo di Facebook Youtube Twitter Messenger Skype A Giappate Vai